Andrea, complimenti, grande vittoria contro una grande squadra, ve le siete date di santa ragione Eh sì, penso che oggi è più che importante il gioco, penso che alla fine contava la prestazione quella penso che c'è stata da parte di tutti, abbiamo lottato dall'inizio fino alla fine non ci siamo buttati giù dopo il gol loro del vantaggio e abbiamo reagito questo penso che è lo spirito giusto per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza e quindi dobbiamo continuare così hanno cercato di provocarvi dopo il 2-1, non ci sono riusciti Sì, abbastanza, diciamo che ce le siamo suonate come hai detto tu però ci sta perché loro non volevano perdere perché giustamente devono vincere il campionato noi ci dobbiamo salvare, giochiamo in casa, ripeto, questo purtroppo è il nostro cammino e dobbiamo continuare così fino alla fine Secondo me la vostra forza è l'unione tra squadra, pubblico e territorio Ma guarda io penso che è la cosa fondamentale perché giocando in casa e sentendo l'aiuto del pubblico, aiutandoci tra di noi su ogni palla penso che meglio di così non si possa fare soprattutto per affrontare una squadra così blasonata come il Lecce Ora c'è anche la speranza di una salvezza diretta Ma noi facciamo il possibile per arrivare alla salvezza diretta sappiamo che è dura però noi ci alleniamo e sappiamo che l'unica cosa che ci può far bene è il lavoro da quando è venuto questo nuovo staff si è visto voglio dire lavoriamo tanto in settimana e penso che alla fine la domenica vengono i frutti